Non migrano solo le persone, anche i rifiuti. Scherzi a parte, il fenomeno preoccupa l'amministrazione comunale di Campobasso. L'argomento è stato trattato nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale, fenomeno che si manifesta in modi diversi ed evidenzia uno scarso senso civico dei cittadini. In tanti, infatti, portano i rifiuti nei quartieri dove sono ancora attivi i cassonetti per strada. Va registrato uno scarso senso civico di tantissimi cittadini e me, questo dobbiamo dirlo, perché tante zone che sono già coperte da un servizio di raccolta differenziata porta a porta, purtroppo molti eludono il servizio preferendo sversare in maniera indifferenziata presso le zone ancora coperte dai cassonetti stradali. Questo è un atteggiamento sicuramente poco collaborativo da parte della cittadinanza che speriamo finisca presto nel momento in cui l'intera città sarà coperta dal servizio di raccolta differenziata. E per non farsi mancare nulla, Campobasso accoglie anche i rifiuti dei paesi limitrofi. L'assessore Cretella annuncia interventi immediati e atti tesi a disincentivare il fenomeno, ricorrendo anche a videosorveglianza e fototrappole. L'utenza che evidentemente grava sulla città di Campobasso preferisce portarsi a spasso i rifiuti e depositarli all'interno dei cassonetti nelle immediate prossimità dell'ingresso della città. In questo caso possiamo intervenire da subito e lo stiamo facendo con un'ordinanza sindacale che vieterà espressamente a queste persone di conferire, scaricando anche i costi, va detto anche questo, al comune di Campobasso. Questo sarà un atto che sarà emanato nei prossimi giorni. In più attiveremo anche tutti gli strumenti di deterrenza e repressione attraverso la posizione di videosorveglianza, fototrappole e quant'altro. Grazie a tutti.